Lo hanno catturato all'alba, nella sua acquaro, da dove nove mesi fa aveva fatto perdere le proprie tracce, dopo essere riuscito a disfarsi del bracciaretto elettronico. A stanare il latitante Francesco Maiolo, i carabinieri della stazione di Arena, agli ordini di Carmine Napolitano, insieme ai militari della compagnia di Serra San Bruno, diretti dal capitano Mattia Ivano Lusciale e allo squadrone Cacciatori. L'arresto è avvenuto alle sei di questa mattina, quando alcuni militari hanno notato un uomo entrare di corsa nel portone delle case popolari del paese delle Preserre Vibonesi, nello stesso stabile dove risiede il fratello Angelo, ora detenuto in carcere. Non a caso, quel palazzo era costantemente monitorato dalle forze dell'ordine che dopo mesi di pedinamenti e intercettazioni ambientali sono riusciti a scovarlo. Quando i carabinieri hanno bussato alla porta, si è presentato Francesco Maiolo, che si è fatto a manettare senza opporre resistenza. Il trentasettenne dovrà finire di scontare una pena di due anni e sei mesi di reclusione che la Cassazione gli aveva confermato al termine del processo Luce nei Boschi per associazione mafiosa. Francesco Maiolo è il figlio del defunto boss di Acquaro, Rocco Maiolo, scomparso nel 1990 per Lupara Bianca, stessa sorte che toccò anche allo zio Antonio, che scomparve otto anni dopo. Per gli inquirenti si tratta di un arresto eccellente, essendo il trentasettenne contiguo al clan degli Emanuele, coinvolto nella faida che si è riaccesa sul finire del 2015 quando, a distanza di poche settimane l'uno dall'altro, sono stati compiuti due agguati contro alcuni elementi della famiglia L'Oielo. I particolari dell'arresto sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa dal comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Vibo Valencia, il colonnello Daniele Scardecchia. Cristina Iannuzzi per l'AC News 24. Cristina Iannuzzi per l'AC News 24.